In questi anni trascorsi diversi sono stati gli appelli, le manifestazioni, le proteste dei cittadini sempre più abbandonati dal sistema sanitario locale per avere garantito un diritto. Tante sono state le persone del posto che purtroppo a causa della distanza al primo ospedale attrezzato non ce l'hanno fatta. La città di Agropoli è carente di un ospedale vero e proprio, non ha un pronto soccorso, non è inserita nella rete dell'emergenza urgenza. Tutto questo ad oggi non è stato modificato, dal mese di dicembre si attendiva la riapertura delle sale operatorie per trattare i pazienti covid positivi. Ci sono voluti tre mesi e nella giornata di martedì 29 marzo le luci spente delle sale operatorie allestite da due anni e per le quali sono stati spesi due milioni di euro hanno ripreso ad illuminare quel dettino che darà una speranza a quelle persone che necessitano in questo momento storico di un intervento chirurgico. Da martedì 29 marzo le sale operatorie dell'ospedale civile hanno ripreso a funzionare ma solo per pazienti covid positivi. Una donna di 77 anni originaria di Castel San Lorenzo è stata la prima paziente operata. La donna con una frattura di femore destra è caduta il 24 marzo scorso e poi trasportata a Roccadaspide ed in seguito all'ospedale di Eboli. Risultata positiva al tampone molecolare covid restò ad Eboli per assenza di postiletto in ortopedia covid in regione Campania. Da qui il trasferimento il 27 marzo in subintensiva covid presso il presidio ospedaliero di Agropoli è subito programmato l'intervento eseguito dall'equip con il dottor Zeoli Massimo, dottor Sodano Luca, con gli infermieri Tomasco Biaggio, Mafia Carmelo, Dijae Morosa e con l'anestesista dottoressa Rosa Lampasona, assistiti dai tecnici radiologi Ciuccio Federico e Passaro Gerardo. La donna è stata operata nella giornata di ieri, l'intervento è durato circa un'ora ed è riuscito perfettamente. Attualmente le sue condizioni di salute sono buone, la speranza dunque per la struttura ospedaliera è che con il termine della pandemia e l'azzerarsi dei contagi questo ospedale possa avere una sua vera e propria identità funzionale.